un monaco fu lodato dai fratelli presso il padre antonio e glielo prese seco e lo mise alla prova per vedere se sopportava il disprezzo visto poi che non era capace di soffrirlo gli disse sembri un villaggio tutto adorno sul davanti e dietro devastato dai briganti un fratello disse al padre antonio prega per me l'anziano gli dice non posso io avere pietà di te e neppure dio se non sei tu stesso a impegnarti nel pregare dio un giorno alcuni anziani fecero visita al padre antonio c'era anche il loro padre giuseppe ora l'anziano a permettergli alla prova propose loro una parola della scrittura e cominciò dai più giovani a chiederne il significato ciascuno si espresse secondo la propria capacità ma ciascuno l'anziano diceva non hai ancora trovato da ultimo chiede al padre giuseppe e tu che dici di questa parola risponde non lo so il padre antonio allora dice il padre giuseppe sì che ha trovato la strada perché ha detto non so grazie a tutti